L'invenzione scientifica, tecnologica più importante degli ultimi cento anni. Qual è stata? Andare sulla Luna, è importante, perché questa cosa non so se vuoi dire. È bello, ma io beneficio da molto poco. Quindi andare sulla Luna è stata una grande invenzione, ma è inutile. Per me è stata la medicina, la medicina è stata, perché tu con la medicina risolvi tutto. Risolvi qui, risolvi lì, risolvi, poi hai tutti i tuoi esami, tutte le tue cose che ti servono, poi bisogna studiarle, non importa parlarne, bisogna studiarle. E invece una volta non era così, non c'era la medicina? Beh, ma scusami bene, una volta, una volta, la gente moriva in guerra, non si aveva neanche come ne avevano fatto. Che aveva un fratello in guerra, era molto là. Capace, queste sono le cose brutte che sono vissute fino a quel periodo lì. La chirurgia, si scoprono delle malattie nuove che fanno rivivere tante persone che sono spacciate. Secondo me hanno migliori aumenti. Per quale è più utile? La medicina. Eh, eh, eh.